Salve a tutti i cari cacciatori della caccia all'Italia, io sono uno dei mille e come me anche voi quest'anno dovrete superare mille prove per poter riuscire a trovare il tesoro, l'unico modo per poter riuscire a spuntarla anche questa volta sarà quello di stare molto uniti, tutti molto coesi. Punto numero uno, dovrete preparare un vostro tricolore, dovrà essere un tricolore molto personale, interpretato da ogni squadra in maniera molto soggettiva, quindi ci aspettiamo da voi dei lavori molto creativi e sarà il vostro vestillo per tutto il corso della caccia al tesoro. La squadra dovrà presentarsi alle ore 19 in piazza San Martino, il portavoce dovrà essere a capo della propria squadra con il proprio vestillo, il tricolore interpretato. Per poter riuscire a superare tutte le prove e le peripezie che troverete lungo il cammino sarà necessario conoscere al meglio la storia del nostro grande paese. Buona caccia e buona fortuna a tutti!